Buongiorno a tutti e a tutte, oggi parleremo della guerra d'Etiopia. La guerra d'Etiopia è al contempo l'ultima invasione coloniale commessa dagli europei in Africa, è la prima guerra d'aggressione del nazifascismo ed è contemporaneamente qualcosa che apre probabilmente la strada alla seconda guerra mondiale in maniera determinante. Questa mappa che c'è alle mie spalle è l'Europa degli anni 30, dopo la crisi del 29 le democrazie liberali sono in netta ritirata tant'è che sono solo gli stati in verde, quindi Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, gli stati scandinavi e la cecoslovacchia. Il resto del continente è in mano a regimi totalitari come quello nazista o quello fascista o a stati autoritari, regimi militari come quello polacco o ungherese o a monarchie molto repressive come quella rumena e quella jugoslava e quella greca. Quindi in questa fase assistiamo già a quella che sembra l'eclissi della democrazia, però gli equilibri geopolitici nati dalla prima guerra mondiale in qualche modo sembrano reggere. La comune intesa tra i vincitori in qualche modo sembra stare in piedi, i vincitori sono Inghilterra, Francia e in misura minore anche il Regno d'Italia. Gli Stati Uniti in questo momento sono fuori dai giochi, continuano la loro politica isolazionista e l'Unione Sovietica è messa al bando perché è uno stato socialista. Ora, l'Austria in questa fase è un regime che ha la propria forma di totalitarismo. Nel 1934 il cancelliere cristiano sociale Dolfus fa sostanzialmente un colpo di Stato, lui aveva vinto le elezioni ma poi una volta arrivato al potere mette fuori legge gli oppositori che sono i comunisti, i nazisti e anche il grande partito socialdemocratico, che è il vero grande partito della classe operaia austriaca e soprattutto viennese e instaura il proprio regime. È un regime che si può definire clerico fascista, cioè basato su un ruolo molto forte della religione cattolica e che intrattiene ottimi rapporti con l'Italia di Mussolini che è vista un po' come un modello. A questo punto Dolfus è quindi un protégé di Mussolini. Nel 1934 reprime, quando fa il suo colpo di Stato, reprime duramente sparando coi cannoni sui quartieri operai di Vienna la rivolta degli operai socialdemocratici, ma pochi mesi dopo viene assassinato dai nazisti austriaci che vorrebbero incorporare l'Austria nella Germania e che quindi sono un altro fascismo concorrente, un altro totalitarismo concorrente. Hitler vorrebbe incorporare l'Austria in quel momento, ma nonostante Dolfus sia stato ucciso non può farlo, non può farlo perché Mussolini manda le divisioni al Brennero e gli dice sostanzialmente non ti azzardare Adolf. Hitler in quella fase non ha ancora riarmato la Germania, siamo nel 1934 e quindi dice no scusa Benito stavo scherzando, mai mi permetterei, sei il mio modello caro collega dittatore, non ti farei mai uno sgarro del genere. In quel momento appunto sembra che ancora, nonostante le affinità tra Hitler e Mussolini, l'ordine geopolitico uscito dalla grande guerra in Europa regga ancora, ma l'anno successivo quest'ordine entra irrimediabilmente in crisi per la decisione italiana di aggredire l'Etiopia. L'Etiopia è l'unico stato africano rimasto realmente indipendente dal colonialismo e da sempre è rimasto indipendente. Nel 1896 ha respinto un'aggressione italiana e quindi si è evitata la colonizzazione sostanzialmente. Fa parte della società delle nazioni, questa specie di antenato dell'ONU. Ora, che cosa accade? Il regime fascista che per motivi sia di politica interna, ovvero l'alto numero di disoccupati, le cattive condizioni di vita della popolazione, sia di prestigio internazionale, ha bisogno di far vedere quanto è potente, decide di invadere l'Etiopia prendendo a pretesto uno scontro tra soldati etiopi e italiani lungo la frontiera tra Somalia ed Etiopia. Ricordo che la Somalia, buona parte della Somalia e l'Eritrea erano in quel momento colonie italiane. Quindi prende a pretesto questo incidente di frontiera per dare il via all'invasione dell'Etiopia nell'ottobre 1935. Siccome gli Etiopi avevano già sconfitto un'altra invasione italiana nel 1896, l'esercito italiano darà il via ad un'operazione in grande stile. Mussolini non vuole correre rischi. Manda in Etiopia il meglio che l'esercito italiano ha in termini di mezzi e 600.000 soldati. E questa è una grossa rottura rispetto alla tradizione delle guerre coloniali. Le guerre coloniali dovevano costare poco, dovevano essere rapide, costare poco, se ne doveva parlare poco, quindi si mandavano giù i soldati strettamente necessari. Gli italiani che vanno a invadere l'Etiopia sono invece 600.000 tra soldati e operai militarizzati. È una grande guerra del regime, su cui c'è un fortissimo investimento propagandistico. E questo devasta le casse dello Stato, svuota i magazzini dell'esercito italiano e favorisce quello che poi si vedrà in maniera drammatica nella Seconda Guerra Mondiale, l'arretratezza dell'esercito italiano che fino alla metà degli anni 30 era considerato un esercito di tutto rispetto nel panorama europeo, ma con la guerra d'Etiopia spende tutte le proprie risorse per invadere l'Etiopia e saranno risorse che mancheranno nella Seconda Guerra Mondiale. Tanto per dire quanto è costata questa guerra, viene introdotta allora una tassa che paghiamo ancora oggi, che tutti i governi ci promettono di abolire e nessuno lo fa, che sono le accise sulla benzina. Ecco, questo è quanto pagano gli italiani. Gli Etiopi pagano molto di più. Quello che subiscono è una vera e propria ecatombe, tant'è che uno storico americano come Robert Paxton, in maniera secondo me corretta, paragone il modo di comportarsi delle truppe italiane in Etiopia a quello che poi avranno i nazisti nell'Europa centro-orientale. Qui vedete l'Etiopia viene invasa da due colonne italiane, una guidata dal generale De Bono e poi dal generale Badoglio, che parte da nord dall'Eritrea, e un'altra da sud dalla Somalia, guidata dal generale Graziani, che già aveva commesso terrificanti crimini di guerra nella cosiddetta pacificazione della Libia a cavallo tra anni 20 e 30. Quindi queste due colonne avanzano, avanzano in territori etiope, si scontrano con le truppe etiopi e si aprono la strada fino ad arrivare sette mesi dopo nella capitale etiope, Addis Abeba. Intanto la società delle nazioni considera questa per quello che è, cioè un'aggressione contro un paese indipendente. Quindi gli stati membri della società delle nazioni lanciano le sanzioni contro il regno d'Italia, che sta aggredendo l'Etiopia. Le sanzioni che cosa sono? Sostanzialmente un embargo commerciale. E qui vedete un manifesto di propaganda italiano, 18 novembre, sanzioni italiane, ricordate, con il cappio che strangola l'Italia. Ecco, in realtà queste sanzioni, questo embargo economico è pochissimo efficace. Innanzitutto siamo dopo la crisi del 29, il commercio mondiale già di per sé in crisi, il regime fascista ha già iniziato una politica autarchica e per di più molti paesi come la Germania nazista, che è il primo partner commerciale dell'Italia fascista, in realtà non applicano affatto queste sanzioni e quindi rimangono in buona parte inefficaci. Tant'è che, e per di più dopo sette mesi, quando le truppe italiane entreranno in Addis Abeba, anche Francia e Inghilterra, che pure le avevano sostenute, queste sanzioni diranno, beh, vabbè, la guerra è finita. Finiscono anche le sanzioni, quindi non hanno nessun risultato pratico, sono semplicemente un qualcosa di molto utile per il regime, perché effettivamente quelli che sostengono queste sanzioni sono l'Inghilterra e la Francia, che hanno grossi imperi coloniali, quindi il regime può dire, guardate, questi che sono pieni di colonie, fanno storia a noi, perché invadiamo un paese africano e l'Italia, nazione proletaria, che deve conquistarsi il suo posto al sole contro le grandi potenze demoplutocratiche e quindi abbiamo tutta questa campagna del regime che incita, ad esempio, le donne italiane ad andare in piazza e donare la propria fede matrimoniale, l'anello d'oro, in grandi braceri, dove vengono fuse queste fedi per fare l'ingotti d'oro per finanziare la guerra e sembra che il regime sia al massimo del consenso, in effetti è al massimo del consenso. Noi vediamo, per esempio, nei filmati queste grandi masse di donne sulle piazze che donano l'oro alla patria, poi in realtà bisogna sempre considerare che il consenso è in un regime totalitario. E questo cosa vuol dire? Che se andiamo a vedere i rapporti della polizia politica, all'ovra ci rendiamo conto che in realtà la polizia politica sa benissimo che molte donne prima di andare a donare l'oro alla patria vanno dal loro efficio e gli dicono guarda, fammi un lavoretto, tirami via metà dell'oro da questa fede, fammi una fede più piccola che sarà quella che vado a donare in piazza. Metà dell'oro me lo tengo da parte quando è passata la nuttata come dire, ci facciamo un'altra fede d'oro, quella schifezza di rame che mi danno in piazza quando vado a donare l'oro alla patria. E quindi ci sono queste dinamiche che sono tipiche di un regime totalitario. Ecco, come dicevo, gli etiopi pagano molto di più, hanno 275 mila morti durante l'invasione italiana. L'esercito italiano, per vincere la resistenza, molto valorosa, molto convinta di questo popolo che anche quando armato di lancio e vecchi fucili, resiste, resiste eroicamente, l'esercito italiano usa tutto quello che ha, compresi i gas asfisianti. Quello alle mie spalle, vedete questo ordine di Mussolini il 27 ottobre 1935 che ordina il generale Graziani sta bene per azione giorno 29, stop, autorizzo, impiego, gas come ultima razza per sopraffare resistenza, nemico in caso di contrattacco. Quindi si butta proprio l'aiprite, l'aiprite è un gas che viene irrorato da speciali diffusori piazzati sugli aerei sotto forma di goccioline, ti entrano nel corpo, ti creano delle specie di buboni che o ti soffocano subito, se sei fortunato, se no si gonfiano, esplodono e tu muori tra atroci e sofferenze e viene irrorato sia sui combattenti che sulle popolazioni civili dei villaggi, quindi stiamo parlando di vere e proprie atrocità di questo tipo. E poi durante l'occupazione gli italiani mettono in atto un vero e proprio regime di segregazione razziale, inutile dire, ah, gli abbiamo costruito le strade, gli abbiamo costruito alcuni edifici pubblici, i piani erano quelli di costruire una disabeba in cui la popolazione nativa fosse completamente esclusa dai quartieri del centro che dovevano essere abitati solo da italiani, quello che viene messo in atto è un regime di occupazione durissimo, sanguinario, anche perché la popolazione tipa non si arrenda, gli italiani dicono che hanno vinto la guerra perché sono entrati ad adisabeba, ma appunto controllano la capitale, le principali città, le principali strade, il resto del territorio è nelle mani della resistenza etiope che continua a combattere, continuerà a combattere fino al 1941 fin quando riuscirà a liberare il proprio paese e le rappresaglie italiane sono sanguinosissime. Ciro Poggiali nel suo diario dell'Africa orientale italiana racconta quello che fanno gli italiani, non solo i militari ma anche i civili inseguono ad un attentato fallito tra il resto della resistenza etiope al vicere Graziani. Tutti i civili che si trovavano da disabeba in mancanza di un'organizzazione militare o poliziesca hanno assunto il compito della vendetta condotta fulmineamente con i sistemi del più autentico squadrismo fascista. Ciro Poggiali non è un oppositore è un corrispondente del Corriere della Sera che tiene questo diario segreto in cui a differenza che negli articoli scrive quello che vede veramente. Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro accoppando quanti indigeni si trovano ancora in strada. Vengono fatti arresti di massa ma andrei di negri sono spinti a tremendi colpi di curbascio di frusta come un greggio. In breve le strade intorno al Tucul sono seminate di morti. Vede un autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza gli trapassa da parte a parte la testa con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara e innocente. Senza questa pronta reazione dell'elemento borghese feroce ma tempestiva i 100.000 abitanti indigeni di Addis Abeba i bianchi non arrivano a 3.000 avrebbero potuto insorgere e fare di noi un macello spiegheranno poi. Cioè l'idea la paura di tutti i colonizzatori nei confronti dei colonizzati che porta a questi atti. Appunto c'è il massacro di Addis Abeba ma c'è anche quello di Debra Libanos gli etiopi sono un popolo cristiano cristiani copti l'esercito italiano per rappresaglia va in questo monastero di Debra Libanos che è il cuore della religiosità etiope tirano fuori 2.000 tra monaci tutti sull'orlo di un burrone e li uccidono tutti a raffiche di mitragliatrice è uno dei più grandi massacri di cristiani mai commessi in Africa ad ora neanche Boko Haram è riuscito ad ammazzare così tanti cristiani in una volta come ha fatto il reggio esercito italiano ad Ebra Libanos e dalla campagna ad Etiopia nasce o meglio ha una svolta il razzismo del regime fascista fino a questo momento il regime fascista ha discriminato su base linguistica su base culturale ha discriminato le popolazioni di lingua tedesca o croata e slovena presenti dentro i confini italiani a questo punto inizia la discriminazione razziale un reggio decreto del 1937 proibirà i rapporti di natura coniugale cioè i rapporti sessuali tra italiani e sudditi dell'Africa orientale italiana soprattutto con le suddite dell'Africa orientale italiana visto che gli italiani che vanno in colonia sono soprattutto uomini ora in realtà questo decreto che è copiato di pari pari dalle leggi razziali naziste di Norimberga fatte due anni prima non sarà in realtà mai applicato non sarà in realtà mai applicato perché Mussolini ha portato o sarà applicato molto poco perché Mussolini ha mandato in Etiopia 600.000 bal di giovanotti italiani e italiane neanche prostitute in Etiopia non ci sono e quindi vanno con l'Etiopi però è un primo provvedimento legislativo che apre la strada alle leggi razziali contro gli ebrei che saranno fatte l'anno dopo e che saranno giustificate appunto in nome del colonialismo Mussolini nel settembre 1938 nel discorso di Trieste annunciando le leggi razziali contro gli ebrei dirà cos'è cambiato rispetto a prima è cambiato che ora abbiamo l'impero e l'impero si fa con le armi ma si tiene col prestigio e quindi agli italiani dobbiamo dare la netta impressione di un forte prestigio razziale e quindi come discriminiamo gli africani discriminiamo anche gli ebrei le risorse per affrontare questo tema allora c'è una puntata del tempo e la storia dedicata alla campagna d'Etiopia ce n'è anche un'altra dedicata all'impero coloniale fascista che potete vedere sul sito di Reistoria come libri vi consiglio quello di Angelo del Boca decano degli studi coloniali italiani la guerra d'Etiopia e poi per fare un ragionamento sugli stereotipi sugli stereotipi sia razziali ma anche sugli stereotipi di genere vi consiglio un articolo di Jabba Shego una scrittrice Italo Somala pubblicato sul sito di Internazionale la vera storia di faccetta nera che ripercorre la storia di questa canzone che a noi è arrivata come la canzone simbolo del regime fascista ma in realtà Mussolini la odiava proprio perché dava l'idea che gli italiani andassero nelle colonie e andassero con le donne delle colonie salve alla prossima Grazie a tutti